Con un fondo di 30 milioni di euro, la Giunta Pugliese ha approvato il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese. Con tale provvedimento, la Regione intende agevolare progetti di investimento in innovazione, offrendo un supporto all'acquisizione di servizi avanzati da parte delle imprese pugliesi, con l'obiettivo di implementare processi di sviluppi virtuosi e non occasionali, di acquisire idee e brevetti, di accedere a conoscenze e tecnologie disponibili anche fuori dalla Regione, in definitiva di promuovere l'effettivo trasferimento di conoscenze dall'ambito della ricerca a quella della concreta attività imprenditoriale. La misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese in quanto alla luce delle nuove sfide tecnologiche, come per esempio la transizione al digitale nei processi produttivi, mostrano maggiori rischi di vulnerabilità dovuti alla loro polverizzazione. L'ospicio è che l'accesso agli incendivi previsti nell'avviso, incoraggi queste imprese anche a creare forme di collaborazione e fusione per affrontare al meglio i rapidi cambiamenti dell'era digitale. Saranno finanziati con i fondi del programma operativo FESR Puglia 2014-2020 progetti di innovazione riferiti a tre aree, manifattura sostenibile, salute dell'uomo e dell'ambiente, comunità digitali, creative ed inclusive. La dotazione finanziaria, come detto, è di 30 milioni di euro.